Ben ritrovati, Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. Se il progetto logistica ad Alessandria si realizzerà, contribuirà a rendere più grandi i porti di Genova e di Savona. I traffici marittimi potrebbero raggiungere quota 4 milioni di container. Inoltre aiuterà a sconfiggere il congestionamento del sistema autostradale e ferroviario. Questo è uno dei temi emersi durante il convegno che si è tenuto questa mattina all'Università di Alessandria, promosso dalla Fondazione Slala, ovvero la società che si occupa del progetto logistica. Sentiamo di più da Dede Vinci. Una mattinata dedicata agli stati generali della logistica del Nord-Ovest si è tenuta nell'aula magna dell'Università Orientale del Piemonte. Sono gli stati generali che coinvolgono il Piemonte, la Lombardia, la Liguria in un appuntamento di riferimento per le istituzioni e per tutti coloro che sono toccati, interessati dal settore. È stata un'occasione di alto livello per parlare di trasporti, infrastrutture, porti, retroporti, sicurezza, digitalizzazione, formazione e molti altri temi. Hanno partecipato ai vertici degli enti di riferimento con importanti personalità politiche. Ma sentiamo cosa rappresenta per il sud del Piemonte la logistica dal presidente della Fondazione Slala, Cesare Rossini. È una sfida importante, una sfida che farà crescere sicuramente i porti Liguri, ma è una sfida che farà crescere anche le industrie e la logistica del Basso Piemonte. Il Basso Piemonte è chiaramente il retroporto naturale dei porti Liguri. I porti Liguri non possono crescere senza una retroportualità. Costruire la retroportualità non è sicuramente una cosa da tutti i giorni, però diciamo che siamo sulla strada buona. Il progetto presso il Ministero è stato comunque approvato, condiviso e ora è l'autorità portuale che deve dare inizio ai lavori. E quello che trova oggi l'autorità portuale è un territorio coeso. Ci sono 60 enti che sono pronti a ricevere tutte quelle che sono le esigenze che la portualità Ligure richiederà. Le autorità dei singoli comuni sono pronti a cercare di soddisfare quelle che possono essere anche le esigenze degli stessi armatori e quindi di conseguenza diciamo che oggi il Basso Piemonte che va dall'Astigiano al Casalese all'Alessandrino al Tortonese è sicuramente pronto a partire. Lei ha parlato di Basso Piemonte ma Alessandria che già aveva un ruolo nella logistica nazionale che poi è andato trascurato, adesso che parte può avere questo nuovo progetto? Non dimentichiamoci che ad Alessandria esiste il secondo smistamento a livello nazionale. 41 binari, un milione di metri quadrati, una posizione sicuramente più che consona per poter lanciare treni sia verso il Brennero che verso la Svizzera quindi sicuramente sono convinto che gli armatori sapranno utilizzare questo smistamento. Tra l'altro le ferrovie si sono rese disponibili a investire su questo smistamento quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti che se il mondo ligure, il mondo portuale ligure decide di partire con qualche iniziativa sul smistamento oggi non ci sono più scusi. Torniamo ad occuparci, andiamo in Liguria del cosiddetto treno della vergogna a bordo del quale nel giorno di Pasquetta è andato in scena un fatto inqualificabile stiamo parlando proprio di quel fatto verificatosi alla stazione di Genova Principe dove turisti che occupavano una carrozza dove sarebbe dovuta salire una comitiva di ragazzi disabili si sono rifiutati di farli sedere. Ora anche i sindacati CGL, Cisle e Will chiedono alla Regione e a Trenitalia la convocazione di un tavolo regionale congiunto con tutti gli attori in campo per definire un percorso certo di implementazione del servizio ferroviario che dia garanzia alla mobilità di pendolari e turisti. Quanto accaduto sul treno regionale 3075 a Pasquetta si legge in una nota è l'emblema di una situazione ormai consolidata che espone troppo frequentemente i viaggiatori a condizioni di trasporto indecenti e i lavoratori a continui rischi di aggressione. Cambiamo argomento, torniamo ad occuparci della questione Covid perché spetterà alla cabina di regia del Governo l'ultima parola sulle restrizioni appunto contro il virus che potrebbero decadere dal prossimo 1 maggio. La risalita dei contagi degli ultimi giorni preoccupa soprattutto le fasce più fragili e si va verso la decisione di lasciare obbligatorie le mascherine nei luoghi al chiuso. Giorni contati per il Green Pass. Si avvicina infatti la data del 1 maggio quella in cui dovrebbero scadere le norme sul certificato verde in tutte le sue forme e dove potrebbe decadere pure l'obbligo della mascherina al chiuso. La parola finale spetterà alla cabina di regia anche in virtù del fatto che i contagi hanno ripreso a salire. È vero che il tutto potrebbe essere riconducibile all'effetto Pasqua e vacanze che si è portato con sé e ad un clima di più generale rilassamento ed è anche vero che il numero dei tamponi è raddoppiato. Il bollettino di ieri riportava 99.848 nuovi casi con un miglioramento però della situazione negli ospedali che di fatto stanno reggendo perché i ricoveri sono in netta diminuzione. Il rovescio della medaglia fa però i conti con quel misero 10% di immunodepressi che ad oggi hanno fatto la quarta dose del vaccino anti-covid. Anche in Piemonte, dove si è registrata un'impennata di positivi con 5.279 nuovi casi a ieri e un tasso risalito al 15,1% prosegue la vaccinazione con un obiettivo molto chiaro immunizzare entro maggio tutti coloro che possono già ricevere il secondo booster. Sono quasi 24.000 le quarte dosi fatte finora in Piemonte alle categorie autorizzate a livello nazionale. Si tratta principalmente di persone immunodepresse appunto. Dalla settimana scorsa invece dopo il via libera al secondo booster per over 80 ospiti RSA e fragili over 60 con specifiche patologie è partita la convocazione via sms per coloro che hanno già maturato i tempi per ricevere la quarta dose. Ad oggi sono già stati inviati 94.000 sms in particolare quasi 76.000 per gli over 80 e oltre 18.000 per i fragili over 60. Parallelamente è partita pure la somministrazione nell'RSA dove si procede in modo diretto con personale interno o con le squadre delle ASL. Sul fronte mascherine la comunità scientifica invita a non posarle del tutto laddove all'aperto ci siano assembramenti e soprattutto al chiuso dove restano pur sempre un efficace strumento di protezione. E la stessa raccomandazione a tenerle viene ribadita sempre dagli esperti quando si assiste ad un film o a uno spettacolo al chiuso su bus e metro ma anche su aerei, treni, navi nei luoghi di lavoro, a scuola dove parti sociali e governo pochi giorni fa hanno appunto concordato di non toglierle. Sarà la festa del grazie ad inaugurare a Mornese la serie di eventi in occasione dei 150esimo anniversario di fondazione delle figlie di Santa Maria Ausiliatrice una tre giorni che vedrà concluire nel comune dell'Ovadese ma anche a Torino e a Nizza Monferrato il mondo salesiano. Fabrizio Mattana Il mondo salesiano è riunito a Mornese in occasione di un evento che nel 150esimo anniversario di fondazione delle file di Santa Maria Ausiliatrice assume un particolare significato. Il comune dell'Ovadese è stato scelto come fulcro delle celebrazioni per la festa del grazie ricorrenza che ricorda il dono di due cuori d'argento che alcune giovani fecero a Don Bosco nel 1849 una festa ricordato su Maria Vanda Penna direttrice del collegio di Mornese che si svolge ogni anno in un luogo diverso e quest'anno lo ospitiamo in maniera incisiva come punto di partenza degli eventi che caratterizzeranno il nostro 150esimo anniversario. Non solo Mornese sarà protagonista della tre giorni di festa ma anche Torino inizia a Monferrato con la partecipazione della madre generale Chiara Cazzuola che incontrerà le giovani in formazione nella serata di domenica 24 aprile e nella mattinata di lunedì 25 a Mornese martedì 26 a Nizza la religiosa sarà presente anche alle celebrazioni eucaristiche di domenica mattina a Torino nella basilica di Santa Maria ausiliatrice e in quella di lunedì mattina presso il santuario di Santa Maria Mazzarello a Mornese celebrata dal vicario superiore dei Salesiani Don Stefano Martoglio è previsto l'arrivo di 250 persone da tutto il mondo ma altre potranno seguire gli eventi nelle dirette streaming le attività educative delle file di Santa Maria ausiliatrice dal 1872 hanno raggiunto tutti i 5 continenti con la fondazione di scuole collegi e case famiglia oggi nel mondo le religiose salesiane sono 11.220 che lavorano con l'ausilio di numerosi laici e non mancano le vocazioni tante infatti sono le giovani desiderose di incontrare e di approfondire la bella realtà fondata da Santa Maria Mazzarello in comune a Morsasco parlano di lupi ma secondo alcuni abitanti sarebbero i cani i responsabili di razzie di bestiame che avvengono da alcuni mesi di questa vicenda si è occupato Maurizio Silvestri allora oggi tre minuti dedicati in un posto meraviglioso perché è veramente bello ci troviamo nel comune di Morsasco e ho visto una camera da letto di lusso qua allora pensate che questa signora che si chiama Valentina allora Valentina intanto buongiorno ci ha chiamato per un fatto veramente grave per alcuni fatti gravi ecco intanto guardiamo questa qui è la camera da letto ultimamente della nostra Valentina perché è costretta a dormire dentro un furgone durante la notte perché? perché abbiamo paura che i cani possano tornare e aggredire i nostri animali e quindi per sentire per star vicino per sentire se arriva qualche rumore ho allestito la camera qua dentro per tutelarli ecco raccontiamo una storia quindi la signora si è trovata un animale la capra due capri un mese fa no a gennaio abbiamo trovato una nostra capra uccisa e c'erano dei cani attorno alla capra che l'avevano ammazzata e cercavano di mangiarla ecco nel frattempo pensate anche il suo socio lo si è trovato lì nel frattempo aveva una paura pazzesca perché quando poi i cani fanno branco è molto pericoloso e quindi ha chiamato lei Valentina venite mi aiutare chiedendo aiuto siamo arrivati i cani lo stavano cercando di aggredire per toglierlo dalla loro preda e noi siamo arrivati i cani si sono avventati anche contro il mio compagno io ho suonato una tromba acustica e questi si sono spostati si sono allontanati di alcuni metri però nei giorni successivi tornavano cercando la loro preda e di finirla volevo sapere da Valentina se in comune siete passati e vi hanno detto qualche cosa vi hanno tranquillizzato su questo siamo andati dal sindaco gli abbiamo raccontato quello che ci è successo e lui ritiene che le aggressioni siano fatte da lupi ma in questo caso no li abbiamo visti non sono lupi quindi secondo lui non sono i cani che della zona poi lui si è rivolto alla signora cercando di dirle di tenerli custoditi però lui sostiene che non sono i cani a fare queste cose ma che sono i lupi ecco come giustamente dice Valentina io amo gli animali sono un animalista quindi non è che ci ha chiamato per metterci contro questi animali anche perché poi insomma bisognerebbe educarli un po' come i bambini se l'animale non è educato da piccolo da grande può provocare questo quindi la sua richiesta qual è Valentina? che venga applicata la legge e che questi cani vengano riabilitati gli venga insegnato quello che è giusto il comportamento che devono avere noi lo auguriamo senza fare del male a loro perché giustamente i cani sono predatori se non vengano educati come si deve logicamente possono anche diventare così aggressivi soprattutto per l'uomo perché per ora anche se dispiace si sono avventati su delle pecore su dei caprioli se succede a un bambino cosa succede? ecco io mi frenerei qua se succede a un bambino ci vediamo i prossimi tre minuti e vi teremo aggiornati grazie uno spettacolo per parlare di donne guerra e sacrificio l'isistrata di Aristofane è da sempre una delle commedie più apprezzate dalla critica grazie ai temi affrontati che seppur risalgano a 3.000 anni fa hanno ancora un'importante valenza nella nostra società e come da Alessandria Beatrice Augustaro quando si parla di donna oggigiorno i temi che affiorano nei linguaggi più maschilisti sono quasi sempre sensuale passionale una persona che è nata solo per essere bella e attraente spesso senza rendersi conto che con queste espressioni possono sminuire un essere che in realtà c'era dentro di sé uno spirito che va oltre ogni connotato prestabilito da una società molto cieca e questa forza femminile questo sentimento di ribellione era già presente nella comunità greca di 3.000 anni fa tanto che un drammaturgo ne vuole dedicare una vera e propria commedia Aristofane con la sua Lisistrata che ad Alessandria è andata in scena al teatro alessandrino con il testo da regia di Ugo Chiti uno degli autori più importanti degli ultimi anni e con l'interpretazione di Amanda Sandrelli nel ruolo della protagonista la storia è quella di una donna pronta a sacrificare il proprio piacere e quello delle sue concittadine per convincere gli uomini alla pace e duratura è una commedia di Aristofane quindi una farsa quindi anche scritta in modo divertente e l'idea di Aristofane è quella che le donne stufe della guerra fra Sparta e Atene che dura da 20 anni decidono di fare lo sciopero del sesso e quindi attraverso questo obbligare gli uomini ad abbassare le armi e all'interno di questo ovviamente ci sono tanti temi si parla di guerra di tragedie miserie disastri provocati dalla stupidità dell'uomo un mix di tanti argomenti complessi che grazie alla sceneggiatura di Chiti in chiave modernissima possono riflettersi nella realtà in cui stiamo vivendo oggi una realtà che ha come scenario principale la guerra in Ucraina la crisi economica la disoccupazione e la pandemia questa riscrittura infatti interpreta la classicità in un occhio contemporaneo ma allo stesso tempo senza stravolgere il lavoro di Aristofane con una lingua sapida definendo quelle parti rese di difficile comprensione dal tanto tempo trascorso con la Sandrelli sul palco anche la compagnia toscana Arca Azzurra e Luciana del Falco nel ruolo di Spartana è primavera è il momento giusto per fare i primi lavori di giardinaggio che rallegrano gli occhi e fanno pure bene alla salute abbiamo bisogno di bellezza tutti ogni giorno forse non ce ne rendiamo conto ma al solo pensare a qualcosa di bello l'anima si distende e sorride sono pieni di bellezza i paesaggi che ci circondano i gesti semplici della nostra quotidianità è bello nonostante le avversità di un momento storico parecchio complicato provare a respirare con l'universo che ci accoglie e allora perché non restituire un poco di energia positiva regalandoci un'attività che soprattutto col fiorire della primavera può far bene alla nostra salute e darci grandi soddisfazioni stiamo parlando del giardinaggio è questa un'attività fisica vera e propria spostare vasi zappare cambiare la terra dei vasi stessi innaffiare potare sono azioni che fanno bruciare calorie e migliorano la muscolatura di braccia e mani per intenderci tre ore di giardinaggio alla settimana fanno bruciare circa 500 chilocalorie e poi questa attività prima di tutto fa bene all'umore le persone che trascorrono molto tempo in giardino sviluppano infatti migliori relazioni sociali hanno una maggiore autostima sono più felici e ancora l'esposizione al sole consente di accumulare vitamina D una sostanza indispensabile per l'assorbimento del calcio e dunque per il benessere delle ossa se avete la fortuna di avere un giardino prefissatevi come prima cosa il fatto che dovrà mettere in risalto la vostra personalità a seconda di come siete il vostro giardino sarà colorato e pieno di fiori oppure minimalista fatto di piante perenni e quindi meno impegnativo da gestire oppure con un angolo dedicato all'orto o alle erbe aromatiche tagliate insomma su misura il vostro giardino senza dimenticarvi degli attrezzi del mestiere non avete un giardino ma neanche un balcone o una terrazza ci sono gli orti urbani sono spazi verdi di proprietà delle amministrazioni comunali assegnati in affitto ad associazioni gruppi o singoli per la coltivazione di fiori frutta e ortaggi Torino spicca fra le città che più hanno promosso lo sviluppo dell'agricoltura nel territorio urbano con più di 2 milioni di metri quadrati di orti e aree agricole e anche Alessandria con i suoi orti per gli anziani è un bello spaccato di società andiamo a rinnovarvi tra poco lo vedrete in sovrimpessione il nostro invito a diventare nostri inviati attraverso l'invio di video o foto e segnalazioni chiaramente collegate a notizie al numero whatsapp 348 6627590 segnalateci ciò che vedrete in giro noi andremo a verificarlo e ovviamente a ringraziarvi mettendo i vostri nominativi andiamo a scorrere insieme gli altri appuntamenti che riguardano il nostro palinsesto vi ricordiamo dal lunedì al venerdì l'appuntamento con 7 mattina con il nostro Maurizio Silvestri in conduzione con contenitori di varie ed eventuali a vostra disposizione dalle 7 e mezza del mattino fino alle 9 e poi l'altro appuntamento quello con Grigi nel cuore condotto da De De Vinci solitamente Grigi nel cuore vai non dal lunedì ma vi ricordiamo che ancora per la prossima settimana poiché lunedì 25 è festivo l'appuntamento sarà invece per martedì quindi il giorno dopo martedì 26 alle ore 13 sul canale 10 del nostro 7 Gold Parliamo ancora di sport il Vicenza giudicandosi per 8 a 1 il match di ritorno dei playoff di serie A di hockey in line contro il Monleale ha messo la parola fine alla speranza scudetto per i tortonesi fra poco i particolari nel servizio curato da Fabrizio Mattana che oggi ci parlerà anche di calcio femminile a seguire come sempre la rubrica delle notizie utili e poi dopo di noi l'appuntamento col TG7 Sport grazie per averci seguito vi rimando alle prossime edizioni il telegiornale della sera è alle 19 arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Nulla da fare per il Monleale nei play-off scudetto di Hockey in line contro il Vicenza. Anche il match di ritorno disputato a Novi Ligure si è chiuso con una sconfitta per gli Alessandrini. I Veneti infatti si sono imposti per 8-1 dominando il match fin dai primi minuti, andando subito a segno e amministrando il risultato, anche se i padroni di casa poi nella ripresa tentavano il tutto per tutto per equilibrare le sorti dell'incontro, ma senza fortuna. Così il Vicenza poteva dilagare, per il Monleale una stagione comunque positiva. Ma parliamo ora di calcio femminile ovadese facendo il punto con il responsabile Marco Albertelli. Ma sì, direi che dall'ultima volta che ci siamo visti all'Open Day al Mokagatta i numeri sono cresciuti, come ci prospettavamo, e anche la qualità sta aumentando. Le ragazze sono sempre partecipi, appassionate, che è la cosa più importante, seguono le nostre proposte e se il progetto si sta realizzando come avevamo immaginato è soprattutto grazie a loro e grazie al sostegno delle loro famiglie che ci seguono veramente in ogni nostra proposta. Quante squadre ci sono adesso? In questo momento abbiamo un Under-17 iscritta al campionato interregionale con Sampdoria, Genua, Juventus, Entella, Spezia, quindi un'esperienza importante e le ragazze dell'Under-13 che per adesso partecipano ancora al campionato esordienti misti con i maschietti, ma al prossimo anno parteciperanno anche loro a un campionato totalmente femminile che è l'Under-15. Un settore in sviluppo? Direi assolutamente di sì, stiamo ripartendo con la promozione sul territorio, faremo di nuovo degli Open Day nel finale di stagione e all'inizio della prossima e la prossima stagione confidiamo di avere tre leve, quindi Under-17, Under-15 e di nuovo l'Under-13 come quest'anno.